Non sono per nulla preoccupato anche perché stiamo parlando di Champions League, stiamo parlando di grandi club, non stiamo parlando di tornei da bar. Mi auguro che nessuno a livello di media e giornalisti possa cavalcare questo tipo di situazioni perché penso che sia deprimente per noi che facciamo questo lavoro sentire dire queste cose o queste illazioni di biscotti. Il calcio è bello, ognuno giocherà per vincere la propria partita e così faremo noi, farà lo Shakhtar, farà il Madrid, farà il Borussia.